Si chiamano Ghostly Medley, una formazione molto molto particolare con Marco Zanini la chitarra e voce solista, Bruno Tifi chitarra e voce, Carlo Camilloni la batteria, Alberto Zanini al basso e voce. Mi sono arrivate voci estremamente positive di questa formazione. Il loro genere si ispira molto a rock anni 70, musica psichedelica e sono veramente bravi. Godiamoci questi Ghostly Medley con la speranza che riescano a fare anche qualcosa di più. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.